Ciao a tutti, come state? Dato che me lo avete chiesto in tantissimi nei commenti di Instagram Ho deciso finalmente di portarvi una compilation di tutti i giochi che ho fatto fino adesso su Instagram Cosa molto importante, seguitemi lì perché carico tante tante cose Taggate un vostro amico con questo video Così finalmente la magia potrà entrare nelle case di tutti E questa cosa mi farebbe molto molto piacere Che dire, buona visione e divertitevi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti